Allora, proviamo questo trucchetto per Fishing, perché effettivamente le situazioni sono meglio delle mie, sono le migliori ali del gioco, tranne quelle dell'endgame, quindi magari possono aiutarci un minimo. Quindi lo peschiamo, ho già equipaggiato l'anti-gravity hook, io adesso fugo, fugo tanto, mi sbatto qui e non ha funzionato. Grazie.